Essere disposti a girare una nuova foglia, Dio ha messo in guardia i resti di Giuda che sono rimasti nella loro terra per non cercare rifugio in Egitto se lo facessero, sarebbero puniti. Dio ha messo in guardia i resti di Giuda che sono rimasti nella loro terra per non cercare rifugio in Egitto se lo facessero, sarebbero puniti. Se rimangono nella terra di Giuda prosperano. Dio parlò attraverso Geremia e disse, se rimarrete ancora in questa terra, allora vi costruirò e non vi tirerò giù, e vi pianterò e non vi spennerò, perché io cedo al disastro che ho portato su di voi. Non abbiate paura del re di Babilonia, di cui avete paura, non abbiate paura di lui, dice il Signore, perché io sono con voi, per salvarvi e liberarvi dalla sua mano, e io vi mostrerò misericordia, affinché egli abbia pietà di voi e vi faccia tornare nella vostra terra. Ma se tu dici, non abiteremo in questa terra, disobbedendo alla voce del Signore tuo Dio, dicendo, no, ma andremo nella terra d'Egitto, dove non vedremo guerre, non sentiremo il suono della tromba, non avremo fame di pane e li abiteremo, allora ascolta la parola del Signore, o residuo di Giuda. Così dice il Signore degli eserciti, il Dio d'Israele, se vieni in Egitto e vai ad abitare in Egitto, la spada che temevi ti prenderà nel paese d'Egitto. La carestia di cui avevi paura ti seguirà da vicino in Egitto e li morirai. Geremia 42, 10 a 16 Lezione A Gesù Cristo faccio le mie richieste. Amen.